Cerchi un immobile per realizzare il tuo investimento? Vi proponiamo in vendita un'abitazione posta al secondo piano di una piccola palazzina. Come vedete questo bel balcone serve sia lo studio posto sull'ingresso dell'abitazione, sia questo salone, seguitemi, molto ampio e luminoso. Questa parete può essere anche semplicemente abbattuta per rendere unico l'ambiente giorno, unito alla cucina. Invece sull'altra parte dell'abitazione si sviluppa la zona notte che si compone di due camere da letto e due bagni. Gli spazi sono davvero ampi, serviti tutti da finestre e balconi, quindi molto luminosi e spaziosi e ariosi. Venite a vedere la casa!